Come sta Taverna? Buongiorno. Buongiorno a voi. Vicepresidente del Senato Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Come va? Come va il nuovo lavoro? Bene, sono in ufficio. Sto lavorando. Però ancora mi sembra che i lavori dell'aula non sono entrati nel pieno, nel senso che ancora voglia. No, no. Bisogna trovare un governo. Esatto. Senta, a questo proposito, la strada con il PD la lascia perplessa, le piace? Cioè, insomma, veramente ve ne siete detti di tutti i colori, sia la parte del 5 Stelle, sia la parte del PD. Non vi siete fatti grandi complimenti negli ultimi cinque anni. Beh, c'è stato un trascorso sotto gli occhi di tutti che non possiamo negare. Oggi c'è un nuovo momento politico che ci vede impegnati a cercare di fare il meglio per il Paese. E con questa legge elettorale, perché va bene ricordarlo, ci troviamo in questa situazione perché la legge elettorale, che siamo stati gli unici a non votare, destinava il Paese a trovarsi esattamente in questa situazione. Avendo ricevuto 11 milioni di voti, credo che sia responsabile e coerente con quanto avevamo detto ancora prima di sapere quale sarebbe stato il risultato delle urne, se non avessimo avuto la possibilità di governare da soli, avremmo proposto una serie di temi che servono come soluzioni per il Paese alle forze politiche che avevano voglia di stipulare questo contratto con noi e con gli italiani. Quindi siamo qui a fare quello che gli italiani ci hanno chiesto, cercare di dare un governo al Paese. Ripartendo dai punti, insomma, dimenticando il passato, io mi ricordo una volta in un'intervista lei gli dissero, guardi che al Corriere della Sera mi hanno detto, ma lei ha detto zozzoni al PD e lei disse, no non ho detto zozzoni, ho detto mafiosi, schifosi, ve ne dovete andare, dovete morire. Quella roba lì si può, diciamo, seppellire da un giorno all'altro e non pensare poi in qualche modo che invece il popolo degli elettori un po' si sente tradito? Vabbè, io capisco l'umore dell'abbate, capisco le perplessità, capisco tutto. Io ricordo nella scorsa legislatura, che poi la ricordo bene perché è stata una legge della quale ero prima firmataria, la legge sugli schieninghe neonatali che è passata in una deliberante con il voto del Partito Democratico Avete fatto delle cose insieme, certo. Abbiamo fatto delle cose insieme, abbiamo fatto gli agoreati. Se si parla dei temi e se si parla di soluzioni per il Paese, il confronto e il dialogo c'è per tutti. È normale che se poi ci si trova all'opposizione con un governo che andava in direzione opposta a quello che era lo stesso programma che aveva proposto i propri elettori, i momenti di scontro ci sono stati, ma credo che siano legittimi e facilmente... Vabbè, sì, comunque è proporzionale, ci chiede di superarli. Certo, ci chiede di superarli. In questo momento siamo così. Noi abbiamo proposto alle forze politiche che hanno avuto il maggior numero di consensi, oltre al Movimento 5 Stelle, di fare un contratto proprio per separare la politica dagli inciusi, dal quanto ci vogliamo bene o quanto dobbiamo... O quanto ci siamo odiati. O quanto ci siamo odiati. Abbiamo detto che questo è un momento storico per l'Italia perché non navighiamo sicuramente in buone acque. Il Paese ha necessità di procedimenti che riguardano punti specifici come il lavoro, come la povertà, come sono le famiglie. Possiamo trovare una convergenza su questi temi e dare delle risposte al Paese. Io credo che da parte nostra era l'unico atteggiamento che possiamo avere. E lì c'è questa ipotesi di contratto che è stata messa giù da questo costituzionalista che si chiama Della Cananea, che è un allievo di Sabino Cassese. Qualcuno ha fatto anche il nome di Cassese come possibile, presidente di un governo tecnico. A questo non c'entra nulla, per ora non ci siamo ancora. La mia domanda però, Taverna, è ma adesso in questo momento il forno della Lega è stato chiuso, però è stato il primo grande amore di Di Maio. Anzi, ieri Di Maio addirittura ha detto che il povero Salvini viene massacrato dalle televisioni di Berlusconi e qui si aprirebbe tutto il conflitto di interessi, eccetera. Di Maio ha detto una cosa ben precisa, che tra le varie tematiche sicuramente c'è da mettere sul tavolo anche una legge che riguarda il conflitto di interessi. Forse sono passati parecchi anni. Ce ne siamo dimenticati. Sì, ecco, noi non ce ne dimentichiamo. Pensi che era una delle cose che doveva fare Renzi nei primi cento giorni di governo, no? C'è Claudio Tito che in questo è stato, come dire, attento. Ma non so, devo dire, è vero che la legge sul conflitto di interessi è stata uno dei cavalli del battaglio del centro-sinistra, diciamo dal 94 in poi. Poi è vero che... Quindi consideriamo un punto che potrebbe essere condivisibile. Condivisibile da tutte e due le parti. Sì, poi è caldo nel dimenticatoio, anche perché poi in questi vent'anni, una buona parte di questi vent'anni sono stati governati da Berlusconi, quindi è evidente che Berlusconi una legge sul conflitto di interessi non l'avrebbe mai fatta. Poi in realtà c'è stata anche una crisi politica di Berlusconi che in qualche modo ha fatto superare in parte il problema. Immediatamente. Taverna, se lei potesse scegliere personalmente, personalmente, segretario della Lega o segretario reggente del PD? Cioè Martina o Salvini? Chi ha più affinità con voi? Abbiamo cercato di rispettare il voto popolare. Siamo rivolti principalmente alla Lega perché all'interno della coalizione del centro-destra aveva avuto il maggior numero di consensi e perché ci sembrava doveroso proporre a quell'area la possibilità di portare in governo parte dei suoi punti, concordati comunque con noi o comunque sul soluzione. Però gli avete chiesto di mollare Berlusconi e lui non lo fa. Questo però lo dobbiamo chiedere a Salvini come mai. Anche perché io sono stata cinque anni in Parlamento dove la Lega e il Forza Italia non si sono risparmiati contrasti e contrapposizioni tanto quanto c'erano tra noi e Forza Italia. Io il momento di incontro che ho visto tra il centro-destra è stato esclusivamente in virtù di una legge elettorale che con la coalizione gli consentiva di poter racimolare un maggior numero di seggi. Oggi tutta questa necessità, ma io le faccio anche un altro discorso un pochino più ampio. Nel momento che noi chiediamo, abbiamo chiesto oggi il discorso ovviamente per una resistenza ad oltreanza da parte di Salvini ad abbandonare un comune... Non gli conviene, lui vuole prendere tutto il centro-destra. Ma io non capisco una cosa. Nel momento in cui noi avevamo chiesto a Salvini di fare un contratto tra noi e lui anche per una questione di trasparenza e di chiarezza in un paese dove nessuno si è mai preso la responsabilità, questo era anche un motivo per il quale chiedevamo che ci fossero solo due interlocutori, perché gli italiani sapessero chi si stava impegnando e a chi dovessero poi rendere conto. Come mai il centro-destra non si è sentito garantito se era una questione di tematiche da Salvini a un governo con il Movimento 5 Stelle che portasse all'interno del contratto anche le tante del centro-destra. Allora quando ci si viene... Perché loro volevano mettere nel contratto anche Berlusconi, volevano mettere anche Forza Italia. Forza Italia e Berlusconi per noi non sono certo il... Ma neanche come appoggio esterno, neanche come idea di... Avevamo detto che non eravamo stili, ma anche perché non era nelle nostre facoltà poter impedire a una forza politica in Parlamento di votare o meno punti che sarebbero stati poi portati all'attenzione dell'Assemblea. Quindi per noi questo era un discorso che esulava perché praticamente occorre una maggioranza per poter governare. Quella ce l'avevamo con i numeri... Senta, posso dirle cosa penso io? Secondo me è tra una settimana invece, poi tornerete a riparlare con Salvini. Secondo me è qualcosa... Magari sì, c'è sempre Berlusconi di mezzo che è lì che pesa perché comunque quella è una coalizione e quindi che hanno preso tutti insieme il 37%, Claudio, quanto? Sì, hanno preso circa il 37%. E buttalo via. Però secondo me tornano in... Cioè la corrisponzione di amorosi sensi tra Salvini e Di Maio è più forte di quello che si fa. È possibile. Devo dire che a me questo discorso che ha fatto adesso la senatrice Taverna, ma che ha fatto Di Maio in passato, mi convince poco. Cioè l'idea che si possa dialogare in maniera indifferente con la Lega o con il PD corre su un profilo di ambiguità che non riesco a capire. Però scusa, la Taverna ha detto ma infatti io preferisco Salvini, non preferisco... Sì, però quello che è successo... O sbaglio, Taverna? No, io non preferisco sinceramente nessuno dei due. No, diciamo come idealità, come affinità. Ma noi il lavoro che abbiamo commissionato al professor della Cananea, che ha poi redatto un report nel quale evidenziava delle convergenze sia con i programmi della Lega che con i programmi del Partito Democratico, l'abbiamo fatto consapevamente e concretamente. Non è che noi oggi che ci stiamo rivolgendo al PD lo stiamo facendo in maniera seria. Sì, sì, no, lo vedo, lo vedo. Stiamo dicendo, ci sono dei punti fondamentali. Perdonate, perché poi a me sfugge un particolare. Si vuole tolvere qualcosa per il Paese o si vuole continuare a fare questi balletti politici che da vent'anni... No, anche che siamo al cinquantaquattresimo giorno, certo. Allora, io credo che l'unica convergenza tra le forze politiche dovrebbe essere come sarebbe dovuto accadere negli anni precedenti su delle tematiche che riguardano il Paese. E oggi le istanze che il Paese porta sono le stesse per tutti. Ognuno di noi deve assumersi la responsabilità e sentire... Però diciamo, un conto è farlo con il PD, per esempio articolo 18, Jobs Act, eccetera. Un conto è farlo con la Lega, per esempio, che ne so, immigrazione, eccetera. Cioè, sono due realtà di programmi totalmente differenti. Quindi bisogna vedere... Le posso dire che sull'immigrazione, dopo cinque anni, dicono tutti quello che dicevamo noi, che bisogna andare in Europa e avere un rapporto serio e un governo forte che fosse in corsi su un regolamento disciplino. Noi abbiamo... La Lega dice pure del più. ...un stato incredibile, grazie alla nostra europarlamentare Ferrara, che ha permesso l'approvazione di un regolamento che oggi rende molto più semplici le espulsioni e gli accertamenti. L'ha fatto il Movimento 5 Stelle in Europa. Allora, perché non si può ragionare per quello che serve e non per quello... E questo stiamo cercando di fare. E non quello che serve per portare a presto. Vabbè, quindi scordiamoci il passato, questa cosa, diciamo, degli insulti... Beh, però... Siamo al futuro. Vabbè, bravo, bravo, così mi piace, però. No, però io però, se vale questo discorso, può essere anche naturalmente accettato, allora perché mettere un vedo così deciso su Berlusconi? Anche forze del Berlusconi potrebbero... Perdonate anche Berlusconi. No, dico, anche Berlusconi potrebbero presentare delle ricette per il paese, no? Ma evidentemente questo... Berlusconi... No, però, scusi senatrice, è la dimostrazione che non è che tutto si può mettere sullo stesso piano, che destra e sinistra non sono la stessa cosa, che alcune persone, anche se presentano delle ricette, non sono uguali ad altre. Vai, la lascia andare, Tavè, l'ultima battuta, dai, l'ultima battuta, su Berlusconi. La battuta rimane che Berlusconi per noi non è plausibile come interlocutore per un governo di cambiamento, ha avuto il suo momento politico e storico che ce lo consegna per le evidenze anche delle ultime notizie di stampa, quindi consentiteci di dire, dialoghiamo con la Lega, abbiamo dialogato con la Lega, oggi dialoghiamo con il PD. Va bene, va bene. Grazie mille, buon lavoro a Paola Tavena, vicepresidente del Senato, Movimento 5 Stelle.